Eccoci qui come è stato, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi mi raccomando. Mercato Milan, sarà un mercato dinamico non come lo scorso anno quando Milan ha fatto tante operazioni, saranno meno operazioni ma più qualitative e anche più onerose. Ne paravo oggi su Milanello, il Milan ha un piano A ben definito per la difesa ma c'è anche un piano B che ora sviluppiamo. Il piano A è molto ambizioso e si chiama Buongiorno del Torino, contatto diretto Cairo Ibrahimovic che sarà il vero deus ex macchina della campagna acquisti del Milan. Ibra vuole Buongiorno, vuole capire se è fattibile e vuole cercare anche di incassare alcune cose. Quello è il grande sogno, Buongiorno che però costerà non poco e credo che si possa arrivare a lui soltanto attraverso una cessione importante. Che non è affatto da escludere oggi. Dall'altra parte attenzione anche però a Lacroix che è un profilo decisamente più low cost anche perché ha un contatto in scadenza nel 2025 e quindi ha soltanto un anno di contratto. Gioca nel Fosburg, piace anche la Juventus di Giuntoli, è alto 1,90 e ha 23 anni. Profilo che quest'anno nel club tedesco ha collezionato 23 partite, 3 gole e un assist in Bundesliga appunto. Con due presenze in Andermenti francese. Lui ha il profilo diciamo così più fattibile, candidatura che sta portando avanti in particolare Moncada con Dottavio che è stato appunto, entrambi sono stati in Germania e Dottavio è tuttora in Germania. E vediamo poi alla fine che cosa succede. In questo momento piano A o meglio sogno, pista più desiderata, buongiorno. Piano B, pista più fattibile, Lacroix del Fosburg, scadenza 2025 che ti puoi portare a casa per una cifra decisamente inferiore rispetto ai 30 almeno che ti chiede Urbano Cairo. Ditemi che ne pensate e se vale la pena di investire così tanto sul difensore oppure no, secondo me sì, buongiorno, a me piace tanto. Lasciate un bel like, commentate e iscrivetevi da questa parte. Grazie.